Intitolata Gipo Farassino, una sala del Consiglio regionale. Approvato l'esercizio provvisorio di bilancio. Contributi alla cultura, sbloccati 9 milioni, altri 21 arriveranno entro il 31 dicembre. Nuova edizione di Consiglio News, bentrovati. Intitolata Gipo Farassino, una sala del Consiglio regionale. Un omaggio all'uomo politico e artista, ambasciatore della cultura e dell'identità piemontese. E' stata inaugurata al secondo piano di Palazzo Lascari su una sala dedicata a Giuseppe Gipo Farassino, che fu consigliere, assessore regionale e deputato, oltre che celebre cantautore in lingua piemontese, scomparso dieci anni fa l'11 dicembre 2013. Far conoscere il Piemonte all'esterno del Piemonte stesso, questo è il grande lavoro che aveva incominciato a fare tanti anni fa e che stiamo continuando a fare, portando anche ad atti legislativi. E' stata fatta, istituzionalizzata la festa del Piemonte, la festa della bandiera e poi sicuramente, il mio sogno nel cassetto, istituzionalizzare un inno, un vero inno al Piemonte. La cerimonia di commemorazione si è svolta nella sala Viglione di Palazzo Lascaris alla presenza di numerosi consiglieri, assessori regionali e della figlia Valentina. Un riconoscimento sicuramente importante e prestigioso da parte della regione Piemonte e poi mi fa piacere perché lui essendo stato comunque anche consigliere, assessore, questi luoghi li ha girati, li ha vissuti e quindi è bello che in qualche modo continui ad esserci. Un invito a raccontare ai nostri figli le poesie in musica di Gipo per riscoprire le nostre radici e trarne forza per il futuro è stato lanciato dal presidente della regione Alberto Cirio mentre il consigliere segretario Michele Mosca ha voluto ricordare le iniziative di Farassino come assessore all'identità piemontese anche nei confronti dei piemontesi emigrati in terre lontane. Oggi era, secondo me, giusto, doveroso ricordare Gipo, ricordare l'uomo, ricordare l'artista, ricordare il politico ma soprattutto credo ricordare un piemontese, un piemontese vero che ha voluto stare in mezzo ai piemontesi. Alla cerimonia è intervenuto anche il senatore Roberto Rosso. Per me è stato un maestro di vita e di politica, quello che mi ha fatto innamorare della politica. È giusto intitolare questa sala perché Farassino esprime quello che è il meglio del Piemonte. Lui è stato un cultore della sua storia, della sua cultura, della lingua piemontese. Ci ha ricordato l'orgoglio di essere piemontesi. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza nel corso della seduta di martedì pomeriggio l'esercizio provvisorio di bilancio fino al 31 marzo 2024. Approvata, sempre a maggioranza, anche la variazione di bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2023-2025. Via libera da parte dell'Aula anche ad alcuni aggiustamenti tecnici che riguardano la legge elettorale. Approvati alcuni aggiustamenti tecnici alla legge elettorale. Il Consiglio ha votato a maggioranza il DDL 292, modifiche alla legge regionale 19 luglio 2023 numero 12, norme per l'elezione del Consiglio regionale del Presidente della Giunta regionale. Alberto Preioni, capogruppo della Lega, intervenendo sull'articolo 1, ha chiarito che si tratta di semplici modifiche tecniche che si sono rese necessarie ad un'attenta rilettura del testo che è composito e complesso, ma che rappresenta le regole del gioco per tutti, quindi è di fondamentale importanza. Federico Perugini, Lega, ha ringraziato tutti i presenti, visto che per l'approvazione, secondo il capodecimo del regolamento, è necessaria la maggioranza qualificata di almeno 31 voti che sono stati garantiti dalla maggioranza, mentre l'opposizione non ha partecipato al voto o si è astenuta. Una volta ottenuti i 31 voti favorevoli, vale a dire i tre quinti dei componenti il Consiglio. Più di 400 studenti e studentesse provenienti da tutto il Piemonte hanno animato il Flash Mob organizzato in occasione del 75esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In occasione del 75esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Giornata Mondiale per i Diritti Umani, più di 400 ragazzi e ragazze provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Piemonte hanno dato vita dal Parco d'Ora di Torino a un coinvolgente Flash Mob. L'evento è stato organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte e dal Comitato regionale per i Diritti Umani e Civili. Sono felicissima che le scuole ci diano una mano quest'anno per organizzare le celebrazioni perché la cultura dei diritti umani non si fa solo a Palazzo Lascaris, non si fa solamente nei convegni, bisogna farla già da bambini. È una cosa molto importante e significativa per i ragazzi giovani come noi, credo che ce ne sia bisogno perché è un argomento molto importante che è sempre in evoluzione. Presente alla manifestazione è anche il consigliere segretario Gianluca Gavazza. Oggi siamo qui per i diritti, i diritti umani. Il primo diritto umano che ognuno di noi ha è il rispetto, è il rispetto che deve dare dagli altri e il rispetto che deve ricevere dagli altri. Sbloccati 9 milioni a favore del mondo della cultura, altri 21 milioni arriveranno entro la fine di dicembre. Lo ha annunciato in aula l'assessore Tronzano nell'ambito dei Question Time. Come intende agire la Regione per tutelare le realtà culturali che da mesi attendono i contributi? Questa è la domanda posta da due interrogazioni. è risposta immediata che Daniele Valle, Partito Democratico e Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, hanno rivolto alla Giunta regionale nell'ambito dei Question Time. Tra le diverse imprese che denunciano lo stato di grande difficoltà in cui versa l'intero settore per la mancata erogazione dei contributi da parte della Regione Piemonte, anche l'Agis che attende il saldo del 2022 e l'anticipo del 2023. Nell'ultima settimana, specificato l'assessore al bilancio Andrea Tronzano, sono stati emessi ordinativi di pagamento pari a 9 milioni di euro che si aggiungono ai 54 emessi a fine novembre a favore di 1.644 soggetti. Rispetto ad una cifra totale pari a 84 milioni, restano dunque 21 milioni di cui una parte sarà saldata entro la fine dell'anno. Si tratta di risorse anticipate dalla Regione a fronte di ritardi nell'andamento dei flussi di entrata attesi dall'amministrazione. Un quadro che ritrae Rita Levi Montalcini entra a far parte del patrimonio artistico di Palazzo Lascaris. Siamo contenti che da oggi il Consiglio regionale possa ospitare il ritratto di Rita Levi Montalcini, una donna che ha dato lustro alla nostra Regione nel mondo. Questo quadro è un bel regalo a tutti i piemontesi. Queste le parole del Presidente del Consiglio regionale Stefano all'Asia nel ricevere il ritratto della Montalcini realizzato dal pittore e scultore nisseno ma torinese d'adozione Salvatore Vitale. Il quadro, commissionato all'artista una decina di anni fa da Piera Montalcini, nipote dell'illustre scienziata torinese e donato all'Assemblea legislativa su interessamento del consigliere Silvio Magliano, è entrato così a far parte del patrimonio artistico di Palazzo Lascaris. Un grande simbolo che parla di cultura, di scienza e anche della capacità delle donne di portare progresso nella nostra società. Rita Levi Montalcini è stata neurologa. Negli anni 50 le sue ricerche la portarono alla scoperta e all'identificazione del fattore di accrescimento della fibra nervosa, scoperta per la quale venne insignita nel 1986 del premio Nobel per la medicina. Nel 2001 venne nominata senatrice a vita. Spero proprio che il suo esempio e il suo modo di lavorare, di vivere e di interpretare i doveri che la vita ci dà sia importante anche come esempio per i ragazzi. Per me è stata una grande soddisfazione aver ritratto il premio Nobel Rita Levi Montalcini. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!